Ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Sportissimo, la nostra rubrica dedicata allo sport locale. Vediamo insieme come è andata la domenica delle squadre impegnate nei campionati di eccellenza in promozione in questo servizio. Ritorna in Vetterre al Metapontino nella 26esima giornata di campionato di eccellenza. Nella trasferta contro il Grumentum i ragazzi di Mister Comparato non lasciano nulla al caso e vincono la gara con un secco 3-0. Marca non scesaia al 38esimo del primo tempo, casa al 26esimo del secondo, chiude Carluccio al 39esimo della ripresa. Contemporaneamente il Real Senise si aggiudica il big match della giornata sportiva, ovvero la trasferta contro il Lago Negro. Il Real Senise vince per 1-3 con ben due reti trasformate su rigore. Marca per i padroni di casa del Lago Negro, Tuzio al ventesimo del primo tempo, seguono la doppietta di Cotello al secondo del secondo tempo e al 29esimo del secondo tempo, chiude su rigore Balzano al 48esimo della ripresa. Uno sguardo rapido alla classifica conferma il Real Metapontino in vetta a 57 punti, seguito a brevissima distanza, cioè a 56 punti, dal Lago Negro. A 51 in terza posizione si trova il Real Senise. Nel prossimo turno di gara il Real Metapontino incontrerà in casa il Lavello. Le Ioniche di promozione non hanno invece avuto una giornata particolarmente favorevole. Rimangono comunque lontane dalla retrocessione, stabili a mezza classifica. Il Tursi ha 41 punti e settima, ottavo il Rotunda Maris con 33 punti. Pareggia il Tursi, calcio contro il Fides Calera per 1-1. Marca per il Fides Calera, Marino al 43esimo del primo tempo, risponde per i padroni di casa Perrone al venticinquesimo della ripresa. Perde invece il Rotunda Maris che ha incontrato in casa il Ferrandina. Gli ospiti si aggiudicano la gara per 4-1. Marcano per il Ferrandina D'Angelo su rigore al terzo del primo tempo, Miccoli al settimo del primo tempo, all'ottavo del primo tempo e Grieco che sigla il 3-0, chiude Dametti al diciottesimo del primo tempo. Gol della bandiera per il Rotunda Maris marcato a Sant'Arcangelo. Nel prossimo turno seguiremo Paternico Rotunda Maris e Bella Tursi. E con noi è venuto a trovarci Vincenzo Silvestri del Real Metapontino. Ciao Vincenzo, una gran bellissima partita quella di domenica che vi ha visti vincitori e soprattutto avete guadagnato grazie alla sconfitta della capolista del Lago Negro il primo posto in classifica. Com'è andata domenica? Sì, abbiamo preparato questa partita già da inizio settimana, da martedì, nel migliore dei modi per appunto andare lì a Beggiano e prenderci i tre punti importantissimi dato che la ex capolista poi è caduta proprio in casa contro il Real Semise. Contro il Semise. È una giornata fantastica che quindi ci vede lì i capolisti e faremo di tutto pur di rimanere in alto. Infatti mancano quattro giornate al termine, l'obiettivo ormai diciamolo è sempre più vicino, non bisogna deconcentrarsi. Esatto, e anche perché ci sono tutti i presupposti per lavorare bene fino all'ultima giornata e ce la metteremo tutta per magari chissà fare questo salto in Serie D ben venga. Per arrivare alla Serie D. Diciamo l'obiettivo stagionale era la salvezza, eravate partiti con i piedi di piogo. Invece passo dopo passo ci ritroviamo con un'altra storia, con un altro futuro. Qual è il segreto del Real Metapontino? Secondo te qual è il stato? Siamo una squadra davvero molto giovane, con qualcuno di esperienza ed è un gruppo dove davvero ci sono i presupposti per lavorare bene. Ci sono tanti ragazzi come me che abbiamo voglia, fame di arrivare con un ottimo staff che ci segue d'agosto. Era impossibile non fare così bene. Con mister comparato sempre molto attento, sempre molto disponibile. Lui come tutto lo staff è proprio un insieme, siamo una squadra davvero ben assemblata, ben compatta. Ora domenica prossima contro... Giocheremo contro il Lavello che è una squadra che è salva ma che è davvero tosta quindi ci dovremo davvero impegnare per portare a casa i tre punti anche perché sono importantissimi. Dovete mantenere la vetta. Esatto, anche perché il Lago Negro avrà una partita tosta a Vigiano contro la nostra scorsa concorrente, avversaria. Speriamo bene. Va bene, noi facciamo l'imbocca al lupo ai ragazzi del Real Metapontino e vediamo adesso com'è andata il derby tra l'Avis Borussia Policoro e il Matera. Nel derby ionico esce vincitrice, come preannunciato, l'Avis Borussia Policoro che batte la Sefi Matera per 11 a 4. Nonostante la sconfitta si vede la crescita dei ragazzi di Mister Ferrara che danno vita a un bellissimo secondo tempo. La prima frazione di gioco si chiude con un netto 6 a 0 per il Policoro che nella ripresa abbassa la guardia lasciando il campo ai giovani falchetti che riescono così a realizzare ben quattro reti. Nel primo tempo il Policoro la fa da padrone. Inizia la goleada a Sampaio a 4 minuti e 18 secondi segue Patamia a 2 minuti più tardi, a 9 minuti è Scandolaro a superare Angelastri. Poi ancora Sampaio a 9 minuti e 47 secondi chiudono Giannace e Urio. Nella ripresa è il Matera a trovare la rete per primo con Ambrosecchia a 34 secondi. Segue la doppietta di Fabiano che accorcia trovando il 3 a 6. Il Policoro non ci sta e Sampaio a 8 minuti che allunga le distanze. Segue a un minuto di distanza il quarto gol del Matera segnato da Vivi Lecchia. 9 minuti e 46 secondi, chiudono Patamia a 10 minuti e 31 secondi, Sampaio a 16 minuti e 34 secondi e successivamente Urio con una doppietta. E siamo in compagnia di Luciana Piccione dell'Associazione Giavalù che è qui per parlarci un po' di questa associazione e delle sue finalità. Ciao Luciana, dicci tutto. Ciao. L'Associazione Giavalù è un'associazione a promozione sociale. È stata inaugurata il 25 febbraio e la finalità di questa associazione è quella inerente al benessere della persona. In questa associazione pratichiamo corsi di yoga, trattamenti ayurvedici, trattamenti reiki e lo spazio serve anche per seminari sempre inerenti a questo argomento, quindi tutte le attività aulistiche, seminari, conferenze, presentazioni che riguardano appunto sempre l'attività aulistica. Dove si svolgono questi corsi? I corsi sempre presso l'associazione. L'associazione si trova in via Nicola Serra numero 13, la zona Porcilotto, che è più conosciuta così. E in che cosa consistono? Proprio per esempio io che non so bene... Ma io consiglio sempre di provare, di fare una lezione di prova perché ciò che possiamo sentire sul nostro corpo, sul nostro essere è molto soggettivo. Per cui io spiego pochissimo, invito sempre a provare affinché si possa capire cosa accade al proprio corpo, che tipo di consapevolezza vogliamo raggiungere e ovviamente sotto la mia guida e delle mie collaboratrici. Per giungere al benessere, dicevi tu, della persona, che cosa appunto, quello che viene a provare il corso, per esempio facciamo finta che stiamo parlando del corso di yoga, come si deve instaurare il rapporto con un fruitore di questo sport, chiamiamolo così? Beh, sicuramente io dico sempre lo yoga è per tutti ma non per tutti. Questo significa che è aperto a tutti, tutte le età, tutti i ceti, non c'entra nulla la religione, sfatiamo anche questo mito assolutamente. Possono farli i bambini, possono farli persone di una certa età, uomini, donne, donne gravide, è aperto a tutti. Ma ci deve essere un'apertura di cuore e di mente, significa che io devo essere aperta a ricevere, ok? Quindi è importante la guida di un buon insegnante, certamente, ma se io devo provare e devo avere questa apertura, diversamente no. Quindi c'è sempre la curiosità, poi magari a monte c'è anche un po' di scetticismo, però invito, ripeto, sempre a provare. Spiegare a volte non serve, perché ripeto, le sensazioni che si possono provare durante una lezione di yoga, già dalla prima lezione... Sono personali, poi soggettive. Sì, sì, sì. Diciamo che lo yoga intanto è una disciplina, questo è molto importante da chiarire, non è uno sport, è una disciplina e bisogna avere pazienza. Pazienza, costanza e volontà, insomma. La costanza è importante, è chiaro, se io pratico una volta al mese, i risultati non li ottengo. Non li ottengo, quindi bisogna praticare almeno due o tre volte a settimana per raggiungere dei buoni risultati, perché i benefici sono molteplici, sono veramente tanti. E non è solo un discorso fisico, lo yoga va al di là di tutto questo. Questo poi ovviamente, essendo un percorso, è una continua scoperta, una scoperta di se stessi, e quindi bisogna lasciarsi andare e farsi guidare dal proprio sentire. Va bene, noi ringraziamo Luciana Piccione per il suo intervento e per la sua spiegazione molto chiara. E noi diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Sportissimo. Grazie per l'attenzione. Grazie a tutti.